La carenza di sangue è a livelli di guardia e c'è il rischio di ripercussioni sulle attività chirurgiche, per questo è necessario assolutamente recarsi a donare. Il centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari lancia un appello per la grave mancanza di emocomponenti. L'impegno per garantire le urgenze non rimandabili è massimo, ha sottolineato il direttore del servizio immunotrasfusionale Pietro Manca, ma si rischia di vedere compromesse le altre attività chirurgiche. L'urgenza è massima in tutte le strutture trasfusionali della Sardegna. Dal centro di via Montegrappa l'invito alla donazione è rivolto non solo alla popolazione, ma anche ai dipendenti dell'azienda mista. Il sangue è necessario per gli interventi, ma anche per i pazienti talassemici, 130 quelli seguite dalla struttura sassarese che hanno bisogno di trasfusioni periodiche. Donare il sangue, oltre a essere un gesto di altruismo, rappresenta anche un'opportunità per eseguire un controllo sul proprio stato di salute. Possono donare i soggetti tra i 18 e i 65 anni in buone condizioni fisiche, anche chi è guarito dal Covid. Per le prenotazioni i donatori possono contattare il centro trasfusionale di via Montegrappa, l'Aves Comunale e quella provinciale.